Gentili telespettatori, buona giornata. 2.500 euro in busta paga per gli statali e i lavoratori fortunati dei ministeri a Roma. Quindi viene sbloccato il rinnovo del contratto delle funzioni centrali. Vediamo le cifre e le novità. Il rinnovo del contratto dei ministeri, agenzie fiscali, INPS, vale a dire delle cosiddette funzioni centrali. Ci sarà dunque una riscrittura degli stipendi degli statali che vedranno uno scatto verso l'alto. Quindi non stiamo parlando di chi lavora al comune di Forlimpopoli, salutiamo Forlimpopoli, ci ho dormito lì un bel po' di volte in un albergo, non mi ricordo come si chiamava, a Forlimpopoli, vicino Forlì c'è Forlimpopoli. Va bene, salutiamo tutti quelli che sono di lì. Non si parla degli statali delle poste, dei comuni, delle regioni, si parla di ministeri, agenzie fiscali, INPS. Non bisogna dimenticare che quando viene cambiato qualcosa nel contratto delle funzioni centrali è poi solo questione di tempo prima che poi venga riportato in tutti gli altri contratti del pubblico impiego. Ieri l'Agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, la RAN, come riporta il quotidiano Il Messaggero, ha presentato delle tabelle le quali mostrano quali saranno i percorsi di carriera per i dipendenti dal prossimo anno in poi. Ad esempio, funzionari della terza area di un ministero, quella che oggi è più elevata, in media guadagnano 30.435 euro e possono arrivare a ottenere un massimo di 39.010 euro lordi annui. Con la proposta dell'ARAN, lo stipendio base di questa categoria potrebbe partire da 31.518 e arrivare fino a 42.000 euro lordi annui. Così a occhi e croce stiamo parlando di un aumento di circa il 3, qualcosa per cento. Ciò significa che durante la sua carriera potrebbe vedere aumentare la propria retribuzione di 10.765 euro grazie a cinque scatti di 2.153 euro ciascuno. Va ancora meglio al funzionario dell'Agenzia delle Entrate, sempre della terza area, dal momento che passerebbe da una potenziale crescita dello stipendio di 7.099 euro a 10.765. Il cambio più radicale però lo avrebbero i dipendenti pubblici non economici come coloro che lavorano all'INPS o all'INAIL. La progressione attuale è di 2.238 euro. Con la proposta dell'ARAN questa potrebbe arrivare sempre a 10.765. Ma vediamo le novità perché non è finito qui. Dipendenti in servizio all'interno di questi scatti è stata inglobata anche una quota dell'attuale indennità di amministrazione, circa il 20%. Concretamente significa che queste somme che verranno erogate sotto questa voce avranno un peso anche sulla pensione futura, al contrario di ciò che accade oggi. Un'altra novità è che gli scatti non saranno automatici, ma andranno solo ai dipendenti che avranno ricevuto le valutazioni maggiori da parte dei propri dirigenti e che avranno maturato esperienza professionale che in altre parole significa l'anzianità. Ci saranno progressioni di carriera anche per le aree inferiori che con il nuovo contratto cambieranno nome, diventeranno area degli operatori e area degli assistenti. Andiamo a vedere la seconda area. Per quella che prima era la seconda area c'erano al massimo 5 scatti di 5.844 euro totali, ogni scatto con un valore di 1.169 euro. Un ministeriale di seconda area raddoppierebbe le sue possibilità di crescita passando da 2.536 euro a 5.844, qualora riuscisse durante la sua carriera a ottenere tutti gli scatti. Chi vede aumentare esponenzialmente il proprio stipendio sono i dipendenti dell'Inps, dal momento che gli attuali 350 euro passerebbero a 5.844. La quarta area, ancora non è stata definita la quarta area, che però verrà creata ex novo per accogliere al suo interno i professionisti, in particolare coloro che verranno assunti con il recovery plan. Stanto a quanto ha affermato Antonio Naddeo, presidente di Aran, durante la precedente riunione lo stipendio d'ingresso dovrebbe essere di 35.000 euro. A questa cifra vanno aggiunte le indennità di posizione che dovrebbero portare la cifra intorno ai 70.000 euro. Sempre Naddeo si è impegnato a presentare al prossimo tavolo convocato per giovedì prossimo le simulazioni anche sull'aumento contrattuale generalizzato che nel patto firmato tra governo e sindacati era di 104 euro lordi mensili. Insomma, per gli statali che durante la pandemia non hanno avuto nessun problema, anzi hanno potuto magari lavorare anche da casa con il famoso lavoro agile, che poi uno diceva no, non dire che è il lavoro da casa, lo smart working vuol dire che puoi lavorare in qualunque parte del pianeta. Va bene, mi scuso, mi genufletto di fronte a queste cose, non lo sapevo. Lo smart working vuol dire che puoi lavorare anche al cesso della stazione, dove volete. Non è il lavoro da casa lo smart working, è il lavoro agile. Tu sei agile e quindi puoi lavorare dappertutto nel pianeta Terra. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video con un video agile, come il lavoro agile e siamo anche poi nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica ma non solo e poi siamo anche in Facebook nella pagina Teleitalia, dove trovate questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, li trovate condivisi dopo qualche ora così li potete condividere. Se vi sono piaciuti ricordatevi che l'iscrizione è gratuita. Cosa comporta l'iscrizione? Niente. Un aiuto al canale ad essere più visibile. Tutto lì. Grazie e arrivederci.